Ci informa che lo Spezia ha preso Scozzarella, vediamo come vedete tutte le notizie live. Un minuto e venti secondi, vi lasciamo guardare quella che ha la situazione alle mie spalle, ci sono come vi dicevamo prima numerosi attenti ai lavori che aspettano di sapere e c'è anche, ve lo posso dire, una bella adrenalina, c'è una bella tensione, si respira, ci chiedono e chiedono di lasciare lì il passaggio che sta. Le scali portano questa popolità, appunto per far sì che chi deve prespitarsi all'ultimo minuto, correndo la fretta, per correre, a depositare il contratto, possa farlo senza il traccio. In questo momento, quando le forze sono bloccati, ci vorranno di fidarmi, chiaramente anche un secondo, dove una frazione di secondo possono fare la differenza. In questo momento in realtà la situazione è relativamente tranquillina. Ci sono numerose persone che addetti ai lavori, con curiosità, a questo punto che nota per questioni di affari, anche perché a questo punto si chiama la 10, non è un secondo, ma anche un secondo, non è un secondo, ma non vedo, non vediamo con l'incenzo d'anno salire altri addetti ai lavori, quindi possiamo dire con 3, 2, 1, il mercato. 3, 2, 1, si romperemo su quelle che sono fatte, non si riuscite, non l'avete visto, da Lozano, Dio, Lille, Dio, 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 Dio. Grazie.